sono finiti le hai mangiate tutti Nea sono finiti sono finiti ho mangiato anche l'ultimo quando sei venuto a prenderlo ah no lo sai che ce n'è ancora uno uno guarda qui guarda qui guarda qui guarda qui questi sono della mamma li metti in valigia? li metti in valigia? vai mettili in valigia riflettere grazie Grazie a tutti